La Lega Calcio dice no, non si possono trasmettere partite di campionato in chiaro Good evening guys ragazzi, buonasera e benvenuti in un'altra channel ragazzi Siamo qui per parlare di questo fatto che comunque è da ieri che tiene banco col ministro Spadafora Che ha chiesto, ha mandato una lettera al capo della FGC Gravina a Paolo Del Pino Che sarebbe il capo della Lega di Serie A Però la risposta è stata tassativa, il decreto Melandri è quello e tale resterà Le partite anche durante il coronavirus per chi vuole vederle saranno disponibili soltanto in pay In pay A partire ovviamente dalla classicissima di questa sera, il derby d'Italia La sfida che vedrà di fronte appunto Juventus ed Inter Che verrà ovviamente trasmessa in esclusiva e pay per gli abbonati di Sky Sport Ora Io mi faccio una domanda Io sono Dalla parte di Spadafora Allora io pago regolarmente un abbonamento, ho sceso di città le terrestre eccetera eccetera Perché Spadafora voleva che le partite venissero mandate in chiaro? Perché ovviamente con Juventus Inter che è la partita più attesa dell'anno Di tutto l'anno Ovviamente c'è chi se la vedrà i streaming legalmente Perché quella attenzione, la pirateria non finirà mai Io sempre sono stato Lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare Però Chi se la vuole vedere in maniera quantomeno legale Dovrà andare in qualche locale A vedersele E lì ci sarà l'assenuramento di persone Ora io chiedo Perché il festival di Sanremo in chiaro Juventus Inter no Questo io mi chiedo Dicevo io questo mi chiedo Perché io devo pagare il canone Rai Annualmente Quando io ho dei programmi Rai A me interessa soltanto vedermi Don Matteo Un passo dal cielo Le partite nazionale Il ciclismo Quella partita di basket che fanno a settimana E basta Poi per me la Rai se ne può andare Può sparire Allora Io ora perché devo pagare per vedere Il programma di Caterina Balivo Il pomeriggio Cioè devo Devo vederlo E le partite Invece se devono pagare Questa è la mia domanda Io perché devo essere obbligato a pagare il canone Rai Per vedere certe trasmissioni Di cui non mi interessa assolutamente niente Io sono dell'idea Che la tv dovrebbe essere tutta pay Ma nel senso In che senso Io non voglio vedere la Rai Non lo vanno la vedo Oppure mi compro l'evento Basta Ma non è che io pago il canone annualmente In continuazione che è una truffa completa Perché? Allora altrimenti se è così Allora anche le partite dovrebbero essere in chiaro Perché un programma di schifo Di Non lo so Perché la vita in diretta Deve essere gratis E una partita di calcio No Perché Io questo Veramente E questo è il fatto Secondo me Secondo me Comunque Sky e Dazon Hanno tutelato i propri diritti Perché comunque Loro hanno speso tanti Di quei Di quei Di quei Di quei Di quei Di quei Per comprare i diritti tv Lo sappiamo bene Ma a sto punto Io sono dalla parte di gravina Ma da un certo punto Come avete visto Perché? Perché così? Cioè Io vi spiego Io vi ripeto A me non mi interessa Dei programmi che fanno sui cantanti Eccetera E poi la re Non lo capisce Che puntando sullo sport Fai share Molto più di quando Di quando punti sui cantanti Boh Veramente Boh Poi la legge dell'Andrea Andre andrebbe cambiata Perché effettivamente Sì perché Perché Noi siamo un paese di sportofili In particolar modo di calciofili Quindi non ha senso Che solo poche partite L'anno vengano mandate in chiaro Perché la re Deve capire Deve capire Che tu Se fai un programma di cantanti Non ti caga nessuno Cioè fai 4 milioni Massimo Di telespettatori Se tu mandi 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 una partita In chiaro Ne fai 8 milioni Almeno Di telespettatori Io con questo Concludo Vi auguro di vedere Al meglio Juventus Inter Spero Che vinca la Juventus E tutto E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ciao E mi raccomando State alla parte dello sport Che non sbagliate mai Auguri a tutti quelli Che sono nella zona rossa Del coronavirus Quindi delle 11 province Più la Lombardia E niente Saluto in questo video Lorenzo Che è un grande Estimatore del canale Lui purtroppo viene Dalla zona rossa E quindi Così è Bye bye